Ma vorrei dire missione compiuta. Acquedotto Pugliese era un'azienda talvolta precipitata in un cono d'ombra, inseguita da un'alea negativa. Oggi Acquedotto Pugliese, anche con la certificazione delle agenzie di rating, è un'azienda pubblica efficiente, ha nel corso del decennio operato una straordinaria modernizzazione della rete, ha guadagnato un avanzamento, se penso al telecontrollo, se penso agli interventi di manutenzione straordinaria. Acquedotto Pugliese oggi è un'azienda libera dai rischi di privatizzazione. Vorrei ricordare che la concessione alla Regione Puglia fu fatta dal Governo affinché entro il 2018 venisse privatizzata. Questo rischio noi lo abbiamo combattuto nel corso del decennio e abbiamo reso credibile la richiesta che la proprietà permanesse pubblica di Acquedotto Pugliese. Ora chi verrà dopo di noi dovrà garantire l'entrata in campo dei comuni, cioè dei cittadini pugliesi, come autentici proprietari di questo che oggi è un gioiello aziendale. Voglio anche aggiungere che ora la partita riguarda la messa in sicurezza e la pulizia degli invasi e delle dighe, perché lì permangono problemi rilevanti che riguardano lo Stato, che riguardano non soltanto Acquedotto Pugliese o la Regione Puglia, ma che riguardano il Governo nazionale. E da ultimo la gestione del professor Nicola Costantino, ex rettore del Politecnico di Bari e del suo direttore generale, dottor Di Donna, è stata una gestione segnata da straordinaria capacità di mettere in campo intense attività di cantierizzazione di opere necessarie, ma anche una gestione che rende questo management esemplare dal punto di vista della sobrietà e della irreprensibilità morale dei comportamenti. Di questo io sono particolarmente orgoglioso, perché è questo che mi consente di dire missione compiuta.